Swiss Business Group, società svizzera con sede a Berna e Lugano, da sempre affianca gli imprenditori nel loro processo di internazionalizzazione, in Svizzera come in altri paesi del mondo. L'esigenza di gestire numerosi contatti sviluppati negli anni da parte di Swiss Business Group all'interno di un network interconnesso ha portato alla creazione di Start to Business. Start to Business è uno strumento per l'internazionalizzazione delle PMI, che prende forma tramite una piattaforma online. La piattaforma di Start to Business è un corporate business network di ultima generazione, grazie al quale Swiss Business Group ha voluto dar vita ad un luogo d'incontro, una sala riunioni virtuale dove imprenditori, professionisti e tutti coloro interessati ad ampliare il proprio business hanno la possibilità di vivere un momento di matching continuo. Start to Business è stato creato per essere uno strumento grazie al quale si possa ottenere uno sviluppo della propria attività imprenditoriale in maniera ottimale. Ogni imprenditore può connettersi facilmente alla piattaforma e portare avanti le proprie operazioni di business in maniera rapida ed efficace, risparmiando tempo e riducendo i costi. Start to Business offre gli strumenti più avanzati del Web 2.0, come video chat e video conference call ad alta risoluzione, che rendono la piattaforma unica nel proprio genere e permettono un'interazione semplice ed immediata ed una fruizione dei contenuti ottimale. La particolarità di Start to Business è data dalle tipologie di utenti che lo compongono. Network Member è il membro della piattaforma. Si tratta dell'impresa o del singolo imprenditore con una valida idea di business alla ricerca di potenziali partners, finanziatori ed investitori. Ogni membro può creare il proprio profilo personale ed aziendale, descrivere la propria attività o idea di business, presentandosi così al resto degli utenti. Attraverso il proprio profilo personale, imprese ed imprenditori hanno la possibilità di sviluppare i propri progetti in maniera rapida ed efficace, grazie ai numerosi tools offerti dalla piattaforma. La creazione di gruppi ad hoc, la video chat o la videoconferenza, la partecipazione a workshop e seminari di aggiornamento, la possibilità di ricerche mirate all'interno della piattaforma, la fruizione di notizie ed eventi sempre aggiornati e molto altro ancora. Grazie a Start to Business, ogni membro ha la possibilità di gestire le proprie attività e di creare una propria rete di contatti all'interno del network stesso della piattaforma. Business Starter è la figura cardine della piattaforma, ciò che rende unico Start to Business e lo rende una struttura solida e non virtuale per lo sviluppo di un'idea di business. Il Business Starter è una professionale figura di riferimento per la zona assegnata, il quale fornisce supporto nelle operazioni di gestione degli affari attraverso la piattaforma online. Compito principale del Business Starter è quello di gestire le operazioni di business degli utenti appartenenti alla zona assegnata, al fine di poter permettere uno sviluppo ottimale delle stesse. Il Business Starter non è un semplice Help Desk, ma anche un consulente, un marketer, un interprete, un mediatore business, un web designer, insomma un profilo dalle molteplici competenze a cui potete rivolgervi nella vostra stessa lingua, in grado di condividere la propria cultura di business e quella internazionale. Inoltre rappresenta il punto di contatto tra i Network Members e le altre due figure di punta Start2Business, Service e Premium Network. Service Network Sono entità qualificate che presentano i propri servizi alla piattaforma. Chiunque ne abbia interesse potrà presentare la propria immagine in modo positivo entrando a far parte di un network che banta un'alta visibilità sulla piattaforma. Qui è possibile presentare i propri servizi ad altri utenti, così come agli altri Service Networker che compongono la rete. Ciò che conta per diventare Service Network è l'intento di espandere il portafoglio clienti in modo selezionato a livello internazionale, offrendo servizi e strumenti atti a soddisfare le esigenze dei componenti della piattaforma. Premium Network L'obiettivo di ogni impresa è quello di stabilire un network solido e affidabile, composto da specialisti internazionali, consulenti altamente qualificati e compagnie selezionate in modo accurato. Questi soggetti insieme creano e costituiscono il Premium Network sul quale poter contare in fase di startup di un'azienda o nel consolidamento di un'attività già avviata. I membri del Premium Network hanno la possibilità di offrire in esclusiva i propri servizi direttamente attraverso la piattaforma, prendendo attivamente parte ai progetti di tutte le categorie di membri della piattaforma. I membri di questo network rappresentano un'elite prestigiosa all'interno della piattaforma, devota all'eccellenza, che approccia diverse tipologie di prodotti e servizi. Oltre alla piattaforma online, Start to Business ha voluto creare uno strumento complementare per permettere agli utenti di sviluppare il proprio coraggio di presentarsi. È in quest'ottica che nasce Start News. Start News, il magazine online di Start to Business, rappresenta una sorta di vetrina per gli utenti della piattaforma. Grazie a Start News, infatti, ogni membro può facilmente presentare i propri progetti, promuovere i propri eventi e segnalare notizie anche a tutti gli utenti esterni alla piattaforma stessa di Start to Business. In questo modo, ogni membro ha un'ulteriore possibilità di aumentare la propria visibilità al di fuori del network creato da Start to Business, andando ad incrementare la propria rete di contatti. Grazie a Start to Business, Swiss Business Group ha messo a disposizione di tutte le PMI interessate all'internazionalizzazione uno strumento valido ed autorevole per lo sviluppo di progetti di business. Lo scopo di Start to Business è proprio quello di permettere alle imprese e ai singoli imprenditori di interagire all'interno di un network selezionato con a disposizione gli strumenti web di ultima generazione. Start to Business offre una concreta possibilità per le imprese e gli imprenditori di sviluppare il proprio coraggio di presentarsi all'interno di un network internazionale. Swiss Business Group, tramite i suoi servizi e gli strumenti offerti, favorisce tutte le imprese e gli imprenditori nell'avvio e nel consolidamento del proprio business al fine di raggiungere i propri obiettivi. Unisciti a noi per raggiungere i tuoi obiettivi, affinché questi diventino realtà. Grazie per la visione!